Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi vi presentiamo questo nuovissimo ottavino. Guardatelo bene perché è un ottavino assolutamente professionale che ha tutto il corpo in plastica. Sì, avete capito bene, plastica. Però è una plastica fantastica, lavorata come legno e ha delle caratteristiche sonore veramente incredibili. È uno strumento made in USA, quindi americano, fatto dalla Gemeinhardt e si chiama Storm. Ha una meccanica molto bella sotto le dita, quindi da vero ottavino professionale, una testata lavorata che garantisce una buona facilità di emissione. Viene dato in un elegante astuccio con addirittura il copio astuccio in pelle. Quindi è veramente uno strumento di alta classe. Sicuramente non è lo strumento adatto per chi deve iniziare a suonare solo per un fattore economico, perché in verità è molto molto facile. Quindi per tutti i flautisti e anche gli ottavinisti professionisti che desiderano avere uno strumento facile, pronto, soprattutto molto intonato, non crederete alle vostre orecchie quando lo sentirete suonare. Veramente incredibile come la plastica possa dare questi risultati. Ora vi farò sentire, anche se non sono ottavinista, però spero che almeno vi possa incuriosire da farvi venire in negozio per provare lo strumento. Come avete sentito, ha veramente una grande facilità di emissione, molto intonato e questo suono veramente magico. Vi aspetto in negozio per provare questo strumento. Grazie e a presto.